Italia e Inghilterra il giorno dopo e ancora si gode, si gode tanto, si gode veramente tanto perché è stata una serata meravigliosa fatta di un sacco di storie splendide, un sacco di rivalse che si sono compiute contro una tifoseria che ha dato il peggio di sé in questo europeo. Europeo che avremmo fatto prima chiamare Inghilterra 2020 perché europeo itinerante sta cippa diciamolo con grande franchezza e spontaneità, è stata veramente una farsa questo europeo itinerante per tante squadre che lo hanno vissuto in maniera totalmente esterna e concepito male, sviluppato peggio, gestito malissimo in alcuni momenti per cui veramente un qualcosa che spero di non rivedere nel corso della mia vita. Che si faccia a casa di qualcuno e buonanotte ai suonatori. Detto ciò, posso dire che io lo avevo sempre in qualche modo fatto intendere che quest'anno ci fosse un'ottima possibilità perché mo' finalmente lo posso dire, terza paura di portare sfortuna. Ve l'ho fatto capire, penso in tutti i video fatti quest'anno, me lo sentivo veramente tanto che fosse un anno positivo, che si potesse arrivare in fondo e che si potesse fare il miracolo. Ammetto di non averci creduto solamente dopo il gol di show ieri, perché prendere un gol così a freddo pensavo che ci saremmo aperti, i primi minuti facevamo fatica sugli esterni, eravamo schiacciatissimi, ho temuto il peggio. Ma solo ieri, nei primi 20 minuti. Nel resto del tempo, lo sapete, ho parlato anche con tanti di voi in privato. Me lo sentivo perché c'erano veramente i presupposti. C'erano veramente i presupposti. Una squadra che è stata bollata come perdente dal giorno 1, che tutti quanti amano, non c'avete capacità, amano, non siete buoni, è su, è giù, è destra, è sinistra, è la Francia più forte, è quello Chambappé, Piripi, è l'Inghilterra, c'è Cain, Piripai, la Spagna, è l'Olanda, è il Belgio, è il primo ranking, ecco. Allora, questo video sarà diviso in due parti. La prima parte la facciamo di commento, ci guardiamo, la seconda parte mi devo levare un po' di sassolini. Quindi, perché questa Europa ha tirato fuori il peggio anche dalla nostra tifoseria, e bisogna dirlo, secondo me. Allora, intanto vorrei cominciare con... andiamo in ordine, eh? Donna Rumma. Allora, il Donna Rumma, che addirittura ieri alcuni... C'è questo falso mito del... no, avete visto, Donna Rumma non c'è neanche accorto di aver vinto. Ah, raga, stava a fare coatto, giustamente, perché dopo tre rigori barati fai il coatto. Cosa, non si era accorto di che? Si era accorto benissimo. E devo dire che il Donna, questo europeo... Diciamo che se quest'anno gli adessero il pallone d'ora non si farebbe il sordo dell'anno. Diciamolo chiaramente. Perché, sì, può stare antipatico. Sì, può essere uno che non piace, che... Opportunista, Donna Rumma, e piripi e piripa, pure qui. Ah, raga, cerchiamo di etify i nostri, almeno agli europei, quando hanno la maglietta dell'Italia. So che è difficile per alcuni, però cerchiamo... ci proviamo. Il portiere più forte del mondo oggi, e io sono mesi che lo dico. Quella più forte... non è più... non so più forte... I giocatori si vedono... si vedono nel... no? Nell'insieme delle cose. Donna Rumma, sono anni che sta giocando a dei livelli altissimi, è oggi il portiere più forte in circolazione. È un dato di fatto, corroborato dai fatti. Ieri ha avuto una personalità per niente di una volta incredibile. Il suo unico problema è la gente che ha, ma lui come giocatore non ha un difetto. Ha gente che è riuscita a criticarlo anche ieri. Ragazzi, ripeto, io non so di tanti, ma ne parleremo dei non godenti, anzi dei mai goduti o come vogliamo chiamarli, perché veramente aiutiamoli. Donna Rumma ieri ha fatto dei miracoli che si fatica a palesare, no? Ma ne ha fatti altrettanti per arrivare alla finale. Io non me li scordo, gli interventi incredibili che ha fatto. Uno su tutti, che ce l'ho qui, col Belgio. Cioè, ragazzi... Ripeto, sarà... chiamatelo mercenario. Quello che vi pare è un portiere senza senso. Senza senso. E cosa vi ho detto io mesi fa? I grandi traguardi nazionali si raggiungono con i grandi portieri. Pum! Tanato è il primo. Senza Donna Rumma, questo europeo, non lo vinci mai. E non per il rigore che ha parlato su Saga ieri. È in generale. Senza quel portiere, tu in finale non ci arrivi. Donna Rumma, 12 milioni, gliene darei anche 36. Per quello che fa e per quello che farà. Perché è un portiere incredibile. Coppia Bonucci-Chiellini. Eh, qua ce n'è da dire. Allora, io non sono juventino. Perché sennò poi ogni volta che parlo di qualcuno... Ah, ma che... Ecco, allora. Bonucci-Chiellini. Tutti a parlare... Ah, perché so... Ma so sopravvalutati. Ah, solo una Juventus. E so la petta in serie. Ah, è perché una volta usciti dall'Italia non valgono niente. Bonucci-Chiellini. La coppia difensiva più forte d'Europa. Lo vogliamo dire? Corroborato dai fatti. Anche qui. Poco da chiacchierare. Poco da chiacchierare. Possono stare antipatici. Possono non piacere. Possono fare quello che vi pare. Sono due fenomeni. Uno e due. Hanno fatto una partita ieri sera in tutto l'Europa. Incredibile. Chiellini ha fatto una sbavatura. Quest'anno. Una. Una sul gol de Morata. E... Sbavatura poi ieri. Quella sul Saka è stata un atto meraviglioso. Che tanto hanno criticato pure quello perché è antisportivo. Arriba, ma giocateci a pallone ogni tanto. Antisportivo. Ha fatto la cosa che doveva fare in quel momento. Perché le ammunizioni esistono anche per quello. Bonucci e Lini. Una coppia meravigliosa. Una coppia che gioca a memoria. Due giocatori di una qualità incredibile. Di una cattiveria infinita. Sportivamente parlando. Giocatori che tutti dovremmo desiderare per la nostra nazionale. Per la nostra squadra di club. Qualora avessimo questa fortuna. Beate gli gioventini che si li godono ogni domenica. Perché veramente sono una gioia per gli occhi. E Bonucci ieri mi ha fatto godere come poche altre volte. Durante, il post partita. Bonucci. Ti voglio bene. Tanto, 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 tanto oggi. Spinazzola. Spinazzola. Una menzione d'onore a Spinazzola. Questo europeo se la merita tutta. Perché è un giocatore che ha saputo... Grazie a Spinazzola. Spinazzola ha avuto un merito incredibile. Unire le due sponde di Roma. In questo periodo. Perché in questo periodo. Romanisti e laziali sono stati molto più uniti di quanto non siano stati nella storia del calcio internazionale. Forse. Negli ultimi cento anni. Perché ci siamo uniti in tante occasioni. Su Spinazzola in primis. Spinazzola ha fatto un europeo incredibile. Avebbe meritato di giocarsi sta finale. È lui che ci ha portato lì. Insieme a tutti gli altri. Perché questo europeo l'hanno contribuito tutti. Per arrivare a questi traguardi conta anche Meret che non tocca mai i palloni. Il gruppo è più importante di chi scende in campo. Il gruppo è fondamentale. Tutti i singoli giocatori ci mettono il proprio contributo. I massaggiatori. Tutto lo staff tecnico è un traguardo di gruppo. La gente che non ha idea di cosa sia lo sport dovrebbe tacere in alcuni momenti. Spinazzola è stato meraviglioso. Ha fatto dentro e fuori dal campo. L'importanza che ha avuto Spinazzola per questo traguardo è da considerarsi tale anche e soprattutto dopo l'infortunio. Perché lui ha unito ancora di più la squadra. L'ha resa più compatta. L'ha resa più desiderosa di portare tutti al traguardo. Anche chi non poteva più giocare. Quindi Spinazzola. 10 e lode a Spinazzola. Speriamo che si riprenda presto perché al di là della rivalità cittadina, io l'ho sempre detto, voglio vincermi i derby eventualmente con la miglior Roma possibile. Per cui Spinazzola non vedo l'ora di rivederlo in campo. Gli altri esterni, Di Lorenzo, Emerson e Florenzi. Florenzi ha giocato poco, ma anche lì Florenzi è un uomo spogliatoio importantissimo. Ieri Di Lorenzo ha fatto una cosa per cui l'avremmo strozzato in tanti. Però a freddo c'è posta. Tendremano le gambe. Hanno fatto, insomma, le marcature. Ieri sono andate un po' così in quel gol di show. Di Lorenzo stava un po' pensando alle cose sue. Però Di Lorenzo ha fatto un ottimo europeo. Ha fatto diversi interventi importantissimi durante questo europeo. Senza Di Lorenzo tu questo europeo non lo vinci. Quindi capisco, sì, la critica. Però quando si raggiungono traguardi così, criticare è svilente per chi critica. Non per chi viene criticato, secondo me. Perché Di Lorenzo ha fatto un ottimo europeo. Non è un campione del mondo, Di Lorenzo. Ma è un campione d'Europa adesso. Per cui trattiamolo come tale. Ed Emerson si è fatto trovare. Giocatore che aveva il compito di sostituire uno Spinazzola che aveva dato tantissimo. Non mi aveva fatto impazzire nella prima uscita. Devo dire che ieri l'ha giocata molto bene. L'ha giocata molto bene. Grande determinazione, grande intelligenza, grande freddezza. Si vede che ha abitato a giocare ad alti livelli e lo ha fatto. Quindi sono veramente fiero di tutti quanti quelli che hanno interpretato ieri la partita. Poi, centrocampo. Barella, Giorginio, Logatelli, Pessina, Verratti, Cristante. Allora, partiamo da Cristante. Cristante ieri, insomma, ha fatto qualcosa di incredibile, Cristante ieri. Perché entrare in quel momento così bene non è da tutti. Tanto di cappella a Cristante. Tanto di cappella a tutto il gruppo dei centrocampisti. Perché tutti si sono fatti trovare puntuali, pronti e desiderosi di metterci sangue e sudore in quella maglia. Nessuno criticabile, gente che ha criticato Barella, gente che ha criticato Giorginio. Ma andate a seguire il curling, andate a guardare cricket, andate a seguire bet. Ci sono tanti sport e nessuno vi obbliga a seguire calcio, se non lo capite. Cioè, criticare Verratti e Giorginio, per questo europeo, vuol dire veramente aver sbagliato sport. Sì, non era il Verratti più fresco del mondo, veniva da un infortunio. Sì, Giorginio forse ieri non ha interpretato la sua miglior partita, ma la peggior partita di Giorginio, anche nelle ipotesi, è comunque la miglior partita del 95% dei centrocampisti internazionali. La peggior partita di Giorginio. Questo deve essere chiaro perché poi io non capisco il beneficio dell'andare a criticare uno a uno come Giorginio. Che ti ha portato lì, è stato determinante per proprio gestire quel centrocampo in questo europeo. Giorginio ha avuto un peso incalcolabile, esattamente come Verratti che si è perso le prime partite, ma poi è entrato con la grinta di chi a quei livelli è abituato a giocarci. Una voglia di lottare su ogni pallone. Sì, non era al meglio delle sue condizioni. Pensate se fosse stato al meglio. Pessina, i due gol di Pessina determinanti per portarci lì. Locatelli che è sempre presente, è sempre ordinato. Locatelli è sempre ordinato. Magari sì, Locatelli non fa quelle verticalizzazioni, ma Locatelli per l'equilibrio di quel centrocampo è stato a lunghi tratti fondamentali. E Barella sì, ha fatto magari il girone meglio di quanto abbia fatto poi le partite all'eliminazione diretta. Ma, 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 cioè, io quello che contesto è, noi non abbiamo, come poi ho detto tante volte, degli uomini copertina, ma abbiamo un gruppo meraviglioso che riesce a compensare in ogni singola frazione di partita le mancanze di uno. Per cui non si dovrebbe neanche stare a parlare del singolo, perché ogni giocatore ha avuto un peso specifico fondamentale per portarci all'obiettivo. Lo sport di gruppo è questo, se no si fa sport individuale è un'altra cosa. Allora lì possiamo metterci a dire, ha sbagliato questo, ha sbagliato quello. Lo sport di gruppo è uno sport di gruppo, appunto. Poi, gli esterni. Insigne, Berardi, Chiesa, Bernardeschi. Allora, in Siria solamente per il gol che ha fatto, o dire a giro di Insigne per me rimarrà, me lo rivedrò nella mia mente il giorno che morirò, forse, il gol di Insigne. Io trovo che noi abbiamo degli esterni meravigliosi, perché Chiesa ha avuto, secondo me ieri è stata veramente la prova di maturità di Chiesa, dove un europeo meraviglioso Chiesa ha coronato il suo percorso ieri, con una partita ai livelli altissimi. Chiesa, dal mio punto di vista, che poi sarà opinabile, è un talento immenso e meravigliosamente acerbo ancora. Cioè, Chiesa vuole spaccare il mondo, ed è tipico della sua età. Quando Chiesa maturerà, un pochino di più, che non vuol dire che sia una pippa, quello che la gente, purtroppo alcuni non capiscono, io non ho mai criticato nessuno in questo europeo. Nessuno. Faccio delle riflessioni sui singoli, però. Chiesa è un giocatore che se, anzi, se, quando maturerà un po' di più, e quindi riuscirà anche a comprendere il suo effettivo valore, che secondo me ancora non ha capito, Chiesa, quanto vale, diventerà un giocatore ancora più forte di quanto non sia adesso, ma molto più forte. Quello che lui ha fatto ieri, in alcuni momenti, con lo strappo da centrocampo e qui, a momenti segna, ragazzi, quella roba che fanno solamente i giocatori di un livello superiore, e lui quelle giocate ce l'ha. Quando imparerà a gestirlo, quel potere, quanto ci divertiremo. Berardi, Berardi, il criticatissimo Berardi, Berardi ci ha messo il suo, Berardi ci ha messo il cuore, Berardi non è Chiesa. È inutile aspettarsi da Berardi che faccia quello che fa Chiesa, perché non è Chiesa. Berardi, però, in quell'attacco è fondamentale. E lo è stato, sì, si ha mangiato qualche gol di troppo, sì, il gol della Spagna in semifinale è nato da un suo errore, chi se ne frega, Berardi, Berardi ha fatto, Berardi è stato fondamentale nei gironi, soprattutto, con delle prestazioni di livello incredibile. Cioè, non ci si può scordare tutto, non ci si può scordare tutto. E due parole su Berna. Berna, criticatissimo. Berna ha bersagliato, perché facciamo schifo in alcuni momenti, noi come tifoseria. Perché facciamo veramente schifo in alcuni momenti. Berna ha resistito alle critiche di chiunque. Si è sentito l'uomo di troppo, è stato additato come uno che non si meritava di stare lì, come uno che ogni volta che entrava in campo era una sorta di meme vivente. Berna ha battuto due rigori che il 99% della popolazione mondiale avrebbe sbagliato. E li ha tirati nella maniera più bella possibile, segnando entrambe le volte e azitando un sacco di gente. Bravo Berna. Io spero veramente che questo europeo gli serva per ritrovarsi, anche al di fuori della nazionale, e per riprendersi quella carriera meravigliosa che aveva iniziato a vivere alla Fiorentina, che poi si è un po' interrotta con l'arrivo alla Juventus, chissà che adesso non possa rappresentare l'uomo in più con il ritorno di Allegri alla Juventus. Me lo auguro veramente tanto per lui, perché è un ragazzo in gambo, un ragazzo che purtroppo è stato preso troppo di mira, secondo me. E poi passiamo all'attacco. Qui ragazzi c'è da dire tanto, perché io sono fortemente arrabbiato. L'unica nota stonata di questo europeo è legata al nostro attacco, perché quello che si è detto su Belotti e Immobile è vomitevole. Quello che tanti hanno fatto, regoforti di Immobile e Belotti, è vomitevole. Perché criticare continuamente due giocatori, specialmente Immobile, di certo non ha aiutato. Di certo non ha aiutato, e il fatto che durante ogni partita non si aspettasse altro che l'errore di uno dei due per poter dire ah ma che l'hanno convocati a fare, questi neanche in C, ne ho lette di tutti i colori, ne ho lette di tutti i colori, da gente che probabilmente nella propria vita non ha neanche finito la tessera a punti del suo mercato, per cui si fa fatica a commentarle. Anche queste cose, però mi dispiace, perché chi critica giocatori del genere durante una manifestazione così non si rende conto A dell'effetto che ha su quei giocatori, B vuol dire che non ha mai vissuto lo sport in vita propria, C che non sa cosa vuol dire il tifo, ma vabbè siamo in un paese in cui si critica Ronaldo, si dice che è bollito Ronaldo, per cui di che stanno a parlare, figuriamoci se si può dire qualcosa di buono su Immobile o Belotti, però ci siamo, ci siamo, ve siete alcuni, ma non parlo della community nostra per fortuna, in maniera particolare di chi sta in giro, sui social si è letto e sentito un po' di tutto, Immobile che doveva essere, insomma, siamo un paese che non ha neanche celebrato una scarpa d'oro, che la sbrida tutto il tempo, eh vabbè ma ha diventato la scarpa d'oro con i rigori, invece di dire, oh che bello abbiamo, in qualsiasi altro paese avrebbero fatto le statue su Immobile, noi no, noi invece passiamo il tempo a dire che lui lì non ci doveva neanche stare, perché, sì ha giocato un bruttissimo europeo, quindi? Ma poi, parentesi personalissima, la gente che veniva da me, a insultare me, per le prestazioni di Immobile, io capisco che magari, c'è tanta gente che ha il cui di un tappo di una bottiglia, però, ragazzi miei, cioè, o, che mi è venuto a dire che io difendevo Immobile perché la sfiale, io l'ho difesi tutti in questa nazionale, ci sono i video a testimonianza, c'è il mio privato a testimonianza, l'ho difesi tutti, e li difenderò sempre tutti quelli che vestiranno la maglia della nazionale, poi è chiaro, ognuno può dire quel che vuole su tutti, ma io posso anche difenderli, e, io un giocatore come Immobile non lo criticherei a prescindere, anche se non fossi laziali, il problema è che, quelli che mi dicono a me, ah tu lo difendi perché sei laziale, è che lo criticano perché non sono laziali, e siccome gli sta antipatico nella normalità, allora, quella è laziale, sì, ha giocato male, sì, certo, però senza Immobile, comunque, esattamente come Berardi, Berardi ha fatto degli ottimi gironi, e poi, si è un po' perso, Immobile è uguale, ha fatto dei buoni gironi, non ai suoi livelli, perché Immobile vale di più, di quello che ha fatto vedere, però da lì a dire, indegno, poi la gente si offende anche, se lui si permette di mandare tutti a quel paese, al fine europeo, ha fatto, anzi, seppure limitato, secondo me, perché il discorso è, Belotti e Immobile, sono due giocatori, meravigliosi, non sono Pelé e Van Bast, però sono due giocatori meravigliosi, altrimenti non avrebbero fatto, quello che hanno fatto in carriera, tantissimi gol, insieme, sono due giocatori che purtroppo, sono fortemente incompatibili, con il modulo che usa l'Italia, cioè Immobile, che io conosco perché lo vedo ogni domenica, ecco perché magari ne parlo con un po' più di condizione di causa, lo vedo ogni domenica da anni, è un giocatore che deve giocare a due tocchi, nel senso, stop e tiro, lo devi mettere in condizione di segnare, Immobile, anche alla Lazio, le partite in cui è costretto a fraseggiare con le spalle alla porta, rende allo stesso modo con cui ha reso, durante questo europeo, non è il suo schema, è il grande campione, rende sempre, a FIFA, a FIFA, nel calcio vero, se un giocatore viene messo in un ruolo non suo, a fare un ruolo che non gli appartiene, non rende bene, quella è la verità, Immobile non è un fuoriclasse, Immobile è un ottimo giocatore, che l'ha dimostrato, con i traguardi personali e di squadra, di essere un ottimo giocatore, non è Pile, ma nessuno ha mai supposto che lo fosse, anche Belotti non è Pile, però anche lì, pure Belotti muo in pippone, Belotti fino a tre anni fa, si accostava a Real Madrid, nelle annate in cui segnava a mitraglia, perché? Perché aveva un Torino, che giocava in maniera tale, da esaltare le sue caratteristiche, l'unico problema di Mancini, in questa Europa è stato, il non riuscire a mettere, la squadra in condizione di sfruttare, il talento dei suoi centravanti, perché il talento c'è, che non è, non possiamo dire che Immobile e Belotti hanno fatto in due, più di 250 gol, perché so due pippe che hanno avuto fortuna, ragazzi, ma veramente è un insulto all'intelligenza, di una cosa del genere, di chi ascolta e di chi parla, l'Italia ha sacrificato il suo centravanti, per il bene di squadra, ma meno male, ma invece resti contenti, ma invece resti contenti, ma invece di tifare, invece di sostenere, parola chiave, sostenere, ma voi il giorno che, c'avrete un figlio, c'avrete un amico che gioca a qualcosa, sbaglia una cosa, ah mi pone schifo, cioè sostenere alla base dello sport, noi no, tutto l'Europeo aspettando l'errore di Immobile o Belotti per dargli addosso, o di Barella, o di Bonucci, o di Chiellini, o di Donna Rumma, tutti aspettare l'errore, vermi, quello sono quelle persone, vermi, quelli che aspettano l'errore dei propri uomini, per poterli criticare, vermi, e ce l'avevo qua, tutto l'erroreo ce l'avevo qua, e pregavo il Dio che se vincesse, per potergli dare dei vermi a sta gente, se avessimo perso, uuuuh, per 30 anni ne avremmo sentito parlare, desti vermi, se avessimo perso, invece adesso zitti, tutti, perché è veramente, insopportabile, gli unici che non si sarebbero meritati di vincere, sono quelli che hanno passato l'Europa, a chiacchierà, maledetti, mo tutti a risultare però, sul cano dei vincitori, a rompercazzo ancora però, maledetti, veramente guardate, ci ho avuto un veleno addosso, per tutto l'europeo, insopportabili, comunque, tornando, adesso un po' più, ci siamo levati i sassoni dalle scarpe, i sassorini, i massi, i massi immensi, Mancini, Mancini ha vinto, questo europeo, nel momento esatto in cui, l'ha visto qui, Mancini ha creato un gruppo meraviglioso, a partire dal suo staff tecnico, portando con sé l'amico di sempre, Vialli, Lombardo, tutti gli altri, Mancini è un uomo, di altri tempi, con una profondità umana, rarissima, Mancini è quello che, ti lascia a casa Ken, io stesso l'ho criticato, per portarti Bernardeschi, perché crede nell'importanza di quel ragazzo, e viene ripagato, Mancini è un uomo che ha pensato al gruppo, è un uomo che ha pensato a, riportare il sorriso in quella squadra, prima ancora che la vittoria, è un uomo che ha preso l'Italia nel momento più brutto, in cui nessuno avrebbe avuto il coraggio di farlo, perché tanti vigliacchi, non l'hanno voluta questa nazionale all'epoca, lui sì, consapevole di quello che poteva fare, del suo valore, delle sue capacità, l'ha riportata dove meritava, Mancini ha saputo portare il sorriso ovunque è andato, calcisticamente parlando, e il pensiero che ha avuto, per i Sampdoriani ieri, è l'ennesima dimostrazione di quanto quest'uomo valga, come persona, io, Mancini lo porteremo sempre tutti, in palmo di mano ovviamente, per quello che ha fatto, ma posso dire che avrebbe meritato gli stessi elogi, anche nel caso in cui avesse fallito questo obiettivo, perché è importante, sottolineare quello che fa, ripeto, l'unico problema che lui ha avuto, che mi sento di riconoscere in questo momento, è il non aver saputo sfruttare il talento dei nostri centravanti, ma a conti fatti non importa, perché l'importante era l'obiettivo, non far segnare questo o quello, l'importante era il gruppo, l'importante era la nazione, l'importante era riportare l'Italia a vivere quelle partite che meritava di vivere, dopo quella parentesi orribile di qualche tempo fa. Adesso ci andremo a giocare il mondiale, con la pressione, con gli occhi di tutti addosso, e non so dove arriveremo, però sicuramente si potrà costruire tanto, quello che mi auguro appunto, è che si conservi il gruppo, perché si può vincere, si può perdere, ma la coesione del gruppo è la cosa più importante dei tutti, e con buona pace degli inglesi che ci hanno dato lezioni di moralità per tutto l'europeo, ieri bandiere bruciate, inno fischiato, football is coming home, tutta l'altra serie, ci hanno massacrato per tutto l'europeo, ci hanno accusato di scorso fair play, a noi, ecco però l'unica cosa che mi sento di dire, la polemica su gli inglesi antisportivi, c'è una cosa su cui non credo che si debba parlare, il discorso delle medaglie, ah se sono levati le medaglie, regà, quando uno gioca certe partite, quando uno vive certe cose, c'è postac e terode, mo non si attaccamo, non si attaccamo alle medaglie, sennò fanno peggio di loro, ognuno si vive la vittoria e la sconfitta come meglio crede, nell'unico momento in cui probabilmente non hanno fatto nulla contro nessuno, nel loro privato, saranno liberi di fare quello che gli pare, almeno quello, abbiamo tante cose per giudicare quello che hanno fatto, almeno le medaglie, lascia un po' il tempo che trova, secondo me, poi chiaramente ognuno fa quello che gli pare, però mandava di dirlo, e ragazzi ho parlato per quasi mezz'ora, perdonatemi, e niente, adesso godiamocela, godiamocela perché, ripeto, sono cose che non capitano spesso, io mi sento iper fortunato come italiano, ad aver vissuto mondiale ed europeo in così pochi anni, speriamo che ce ne possano essere altri, ecco, quello sì, magari, chissà, prima o poi, risaremo qui a festeggiare un'altra, sperando magari che la prossima volta, si riesca a essere un po' più uniti, di quanto non siamo stati questa volta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada